questo è un cunicolo non censito la cosa più strana veramente un cunicolo e come mai ma sembra molto strano come lo trovo dentro la grotta dentro la grotta ci stanno i lì la sopra guarda che roccia qua sopra vedi ecco proseguo 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 poi c'è un cunico non lo so devo portare queste grotte qua sarebbero un gruppo di persone con una corda di sicurezza attaccati da quest'altra parte ecco qua allora il buco si pondrà di qua questa è l'altra e quanti bucci ci stanno è qua qua allora sì ma questa è un certo che ci sta qua guarda vabbè 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 facciamo un po acciucca si si proseguo 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 fortuna che non ho paura ma quale può sto attento come sempre città nelle tracce di chieni ma non so qua potrebbe c'è qualche orso guarda poi qua che splendida guardava non ci ho fatto mai casa adesso con questo video della polina posso vedere bene proseguo là adesso